Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo a Senago in un bilocale arredato, completo di cantina e con possibilità box. Ingresso sul soggiorno con cucina a vista. Da questa zona si ha accesso al terrazzino. Passaggio diretto in camera da letto. Proseguendo, troviamo il bagno completo di lavatrice, doccia e vasca. Per tutti i dettagli su questo annuncio visita il sito www.linviate.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza. Affitti, 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 aff